La DS7 Crossback E-Tense 4x4 è l'alternativa ibrida alle propulsioni tradizionali del SUV premium francese, una soluzione ecologica e intelligente che associa al plus ecologico dell'ibrido la praticità di una vettura a quattro ruote motricchi. La E-Tense è dunque l'unica versione a trazione integrale in listino, grazie ai motori elettrici non necessita di un albero di trasmissione, affidando la motricità posteriore all'unità elettrica da 112 CV. Sulla sale anteriore, oltre all'endotermico 1.6 PureTech da 200 CV, agisce anche l'altro elettrico da 110 CV. La potenza complessiva del sistema ibrido è di 300 CV e 520 Nm di coppia, necessaria donare alla vettura prestazioni di tutto rispetto, tenendo conto del peso di circa 1.900 kg, su cui gravano circa 300 kg extra delle componenti ibride. la batteria è situata sotto il divano posteriore ed è sufficiente a garantire fino a 58 km in modalità zero emissioni, con una velocità massima di 135 km orari. troviamo inoltre le modalità di guida sport, ibrida ed off-road, che vanno a gestire l'erogazione della potenza, giocando tra elettrico ed endotermico. A bordo, la DS7 si conferma nuovamente un salotto tecnologico lussuoso, che avvolge i suoi passeggeri in un comfort acustico e dinamico che trova la sua massima espressione durante la guida totalmente elettrica. Un SUV premium che si conferma un'alternativa valida e innovativa rispetto alle tipiche concorrenti tedesche. in un'alternativa valutazione